La forca di Brè dove noi andremo adesso per iniziare la lunga cresta che porta in cima al ritorno. C'è un po' di vento freddo ma è normale quest'anno è così. C'è un po' di nuvole che vedremo che il vento le porti via. La grande becca del mondo, la corsa a share. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Grazie a tutti. Ciao. Ciao.